Musica Benvenuti a un nuovo appuntamento con A Tu per Tu, i faccia a faccia di Trentino TV insieme ai consiglieri provinciali del Trentino. Ospite questa settimana con noi è Alessio Manica, benvenuto. Buongiorno. Capo gruppo del Partito Democratico, segretario della seconda commissione e membro della terza commissione del Consiglio Provinciale che si occupano in particolare di economia e lavoro e di urbanistica e ambiente. Anche di questo parleremo, ma la prima domanda abbiamo voluto che foste voi, telespettatori e cittadini, a farla al nostro consigliere provinciale. Può partire il contributo? Cosa ne pensa della riforma delle case di riposo? Riforma delle case di riposo in Trentino, per meglio dire APSP, aziende provinciali di servizi alla persona, sono oltre una quarantina capillarmente diffuse sul nostro territorio. Un consiglio provinciale straordinario questa settimana per parlarne perché la maggioranza su che cosa punta e quali sono le vostre risposte alle obiezioni invece delle minoranze e delle opposizioni? Sì, credo che innanzitutto debba essere fatta un po' di chiarezza anche dal punto di vista comunicativo. Si parla tanto di riforma delle APSP, in realtà non è solo la riforma delle APSP, è una riforma di un sistema di gestione dei servizi agli anziani che parte da un dato di fatto. La nostra società sta invecchiando, nell'arco di due o tre decenni avremo numeri nell'autosufficienza e appunto nei servizi agli anziani che difficilmente riusciremo a reggere col sistema attuale. È difficile pensare che possiamo aumentare ancora le residenze per esempio per anziani. Posti non ne verranno aggiunti, insomma, casimai assistenza viciliare, voucher, welfare... C'è anche un obiettivo di qualità in questo, se noi riusciamo a spostare l'assistenza agli anziani più a domicilio aumentiamo anche la qualità della vita di queste persone, quindi credo che questa sia anche una sfida. Si fa un po' di necessità a virtù, insomma, diciamo. Necessità sicuramente dal punto di vista delle risorse, voglia di cambiare il sistema dal punto di vista della visione e la riforma punta a questo perché all'interno di questa riforma c'è anche la questione dei punti di accesso per i servizi agli anziani. Ecco, la famosa sigla PUA che molti di voi avranno visto, insomma, sui quotidiani perlomeno. Magari non molto felice. C'è anche la volontà, e questo anche era stato oggetto di confronto con le RSA, di trasformare appunto le RSA come punti nodali della programmazione dei servizi agli anziani. Quindi c'è una doppia sfida, da una parte sicuramente quella di riordinare le modalità di gestione, quindi chiedere di gestire assieme dei servizi e le RSA, lanciare il tema delle fusioni che non è ancora chiuso, quindi chiedere anche un po' di calma, nel senso che il modello finale a cui si vuole portare il sistema non è ancora stato posto sul tavolo. Dall'altra si chiede appunto di mettersi in qualche modo in moto, nel senso che anche il sistema di gestione delle anziani non può pensare di rimanere così nei prossimi 30 anni, come non poteva pensare di rimanere così il sistema dei comuni. Ecco, nelle prossime settimane ci sarà anche la manovra di bilancio provinciale. In aula che cosa si sta facendo sul fronte del lavoro, che appunto è la prima emergenza in questo momento, perché appunto se i giovani non lavorano non possono garantire nemmeno le pensioni a chi ha raggiunto l'età, età che si sposta sempre più in avanti, nei giorni scorsi si è parlato anche di questo anticipo pensionistico, è venuto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a parlarne, a spiegarlo. Giovani che non trovano lavoro, lavoro sempre più precario, adulti che lo perdono, donne che lo perdono anche se vanno in maternità. Visto che lei si occupa di questi temi e ha presentato anche una legge che poi è stata approvata ad esempio per l'agricoltura sociale. Ecco, è un settore su cui si può puntare davvero in Trentino, visto che siamo una realtà tutto sommato piccola e anche con questa vocazione. Un ritorno forse un po' alle origini? Parto dalla fine. Ma l'agricoltura sociale è un modello molto diffuso, o meglio che sta crescendo in Italia e anche in Europa, ma perché? Proprio per quello che lei diceva, perché rappresenta un modello di ritorno in qualche modo alla terra, però con delle componenti di mercato e di solidarietà, riesce a unire queste due dimensioni. È ovvio che non stravolge la dimensione economica di un territorio, può offrire, io mi auguro questo, occasioni di economia e di integrazione del reddito in situazioni marginali. E il Trentino di situazioni di agricoltura marginale, a riccio sopravvivenza, ne ha finché vogliamo, soprattutto nelle valli. L'altra questione è finanziaria lavoro. Lavoro sarà ancora il nodo di questa finanziaria, che non è ancora arrivato in commissione, ma vedete anche voi che dalla stampa che i primi anticipi ancora, giustamente, c'è una finanziaria che andrà a sgravare le imprese di tassazione in modo da poter creare posti di lavoro e cercherà di spingere ancora sull'occupazione giovanile. È evidente che sono manovre finanziarie che scontano comunque disponibilità finanziaria che non sono quelle di dieci anni fa. Però ritengo che ci sono ancora i margini di manovra per questa terra per cercare di rimanere competitivi e di riprendere quei tassi di crescita che hanno fatto di questo territorio, un territorio tra i primi in Europa. È evidente che anche il Trentino si confronta però con fenomeni che fino a qualche anno fa non conosciamo, tipo la migrazione dei giovani verso l'estero. Credo che su questo vadano fatte delle riflessioni anche molto serene. La globalizzazione nel bene e nel male. Io credo che vada anche analizzata nel bene. Il Trentino ha un enorme bisogno di aprirsi. È un enorme bisogno che i trentini si formino anche in situazioni diverse da quelle trentine. Quindi il fatto che qualche giovane migri all'estero può anche essere positivo se questa risorsa poi può tornare a questo territorio con un valore aggiunto. C'è chi dice se ne vanno i migliori. Questo potrebbe essere un boomerang? Può darsi, però io mi dico anche. I più formati, i più ambiziosi, i più capaci. Ed è giusto, siamo un territorio di 500 mila abitanti che non può soddisfare le ambizioni di tutti. Il tema è possiamo far rientrare qualcuno dei migliori poi in questo territorio e trasformarlo in risorsa. Credo che questa dovrebbe essere la sfida di un territorio piccolo e particolare come il Trentino. Siamo giunti al termine. Abbiamo sviscerato diversi temi di stretta attualità politica insieme ad Alessio Manica, capogruppo del Partito Democratico, che ringraziamo per essere stato qui con noi. Grazie alla regia di Mirko Santori. Appuntamento per voi, telespettatori di E tu per tu, sempre qui su Trentino TV con la prossima puntata, la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.